Siamo pronti con la nostra prima diretta del mattino per andare a sfogliare quotidiani nazionali e locali per i primi aggiornamenti di cronaca e di sport. Siamo alla vigilia della ripartenza della Serie A ma come sappiamo ormai da tempo l'Udinese non parte con questo turno ma con il prossimo. Oggi c'è però in programma la sfida amichevole contro la SPAL a Premariaco che vi proporremo in diretta e in esclusiva a partire dalle ore 15. Andiamo a vedere come si sta risvegliando innanzitutto la nostra regione con le webcam che ci arrivano dal territorio, dal borgo del Lussari. Alcune nubi all'orizzonte in questo risveglio di sabato e poi ci spostiamo a Sappada, anche in questo caso foschia delle velature per quanto riguarda la zona delle Dolomiti. E poi ancora a grado al mare invece questa è l'istantanea con un cielo azzurro, alcune nubi all'orizzonte. Vedremo poi come evolverà la situazione. Andiamo anche a Lignano con il medesimo scorcio, questa volta invece da Terrazza Mare. E poi chiudiamo con Caorle, anche in questo caso una suggestiva alba dalla spiaggia di Caorle e il cielo che è azzurro in questo caso. Andiamo a capire che tempo farà oggi con i colleghi di Trebi Meteo. Amici di Udinese TV, un saluto e ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione nella giornata di sabato continua a garantire condizioni di assoluta stabilità atmosferica con clima estivo e temperature massime al di sopra delle medie del periodo. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa tra Pordenone e Udine. Come vedete i cieli saranno in prevalenza sereni, qualche annuvolamento transiterà sul Tarvisiano. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime fino ai 25-26 gradi. Come vi dicevo infatti il contesto sarà ancora tipicamente estivo, seppur le temperature massime subiranno una lieve flessione. In dettaglio tra Gorizia e Trieste il sole sarà il protagonista con cieli in prevalenza sereni. Temperature massime intorno ai 25 gradi, minime intorno ai 14 gradi su Gorizia, 16 gradi su Trieste, da segnalare un po' di vento sul Golfo di Trieste da nord-nord-est. Con questo è tutto amici di Udinese TV, per saperne di più rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo. Andiamo a vedere la situazione in tempo reale in autostrada, invece con l'A4 al momento, con una situazione di traffico tranquilla. C'è una segnalazione di ristringimento di carreggiata all'altezza di Latisana, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, con la corsia di sorpasso, come leggete, che è chiusa, anche perché ieri è stata una giornata davvero complicata, con un gravissimo incidente che si è verificato tra San Stino e Portogruaro, uno precedente tra San Giorgio e Latisana. Le altre segnalazioni, vento forte nella zona dell'Isert, con la tratta finale verso Trieste, tra la barriera e Sistiana. Questa è l'altra segnalazione. Cantieri anche in A23, in prossimità delle gallerie tra Gemona e Tolmezzo-Carnia, e poi verso nord, verso Tarvisio. Tutto tranquillo invece su A28 e A34. In tempo reale le webcam ci mostrano questa situazione allo snodo di Palmanova, con anche il traffico pesante, che in questo inizio di giornata non presenta particolari problemi. Andiamo a sfogliare ora le prime pagine dei quotidiani nazionali, tutte più o meno concentrate, sulla ultima giornata di campagna elettorale per il referendum, per le elezioni regionali che si terranno domani e lunedì. Partiamo con il Corriere della Sera, che è in apertura. Ci dice, voto la sfida delle piazze. Il centrodestra attacca in Toscana, Zingaretti lotto da solo, ma la partita è aperta. Chiusa la campagna elettorale, i dati dell'Istat sul lavoro, perso un milione di contratti a termine. E poi ancora le inchieste, lo vedremo anche su altri quotidiani, sullo staff di Salvini, verifiche sui costi e sui conti. A centro pagina, invece, il Corriere propone la mossa anticina di Trump, vietati TikTok e WeChat. L'aveva promesso il Presidente degli Stati Uniti e ora va verso la concretizzazione di questa decisione. È proibito scaricare le app, salvaguardare la sicurezza nazionale, questo è il motivo. Sul fronte contagio, invece, il picco di ieri, quasi 2000 casi in un solo giorno e si rifanno avanti alcune ipotesi di chiusure localizzate. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, che invece pone i due temi d'attualità, il virus e il voto sullo stesso piano. Incognita virus sul voto, questo è il titolo di apertura. E poi domani lunedì le urne, le quarantene, i timori per gli anziani che potrebbero pesare sull'affluenza. Alle regionali, le città che decideranno la vittoria in Toscana e Puglia. Movimento 5 Stelle, tensione di Maio e di Battista. Salgono i contagi, prime riaperture per gli stadi, paura in Francia. A proposito di stadi di Serie A, tutti gli uomini dello Scudetto, Inter e Atalanta, le anti-Juve. Queste le previsioni per la ripartenza del campionato italiano. E poi il tennis, gli internazionali di Roma restano solo berrettini, grazie allo stesso ai ragazzi d'oro. Davvero grande tennis proposto dalle nuove leve del tennis italiano. Ancora le indagini sulla Lega, quei soldi girati a staff e liste di Salvini, l'inchiesta sui fondi scomparsi. Per quanto riguarda invece la stampa di Torino, in questo caso il tema viene posto in apertura. Svolta nell'inchiesta, soldi allo staff di Salvini. Chiusa la campagna elettorale, decisivi gli scontri nelle regioni, impennata Covid in Italia, quasi 2.000 casi. Francia fuori controllo, 13.000. A centro pagina invece questa notizia che arriva dalla capitale, la guerra delle minigonne nelle scuole. L'Italia segue la Francia. La storia arriva da un liceo romano con la vicepreside di questo istituto che ha chiesto alle ragazze di non presentarsi in abiti succinti perché potrebbe provocare appunto l'osservazione da parte degli insegnanti. La risposta delle ragazze non è colpa nostra. Se cade l'occhio ai professori. Andiamo avanti con le altre prime pagine sul Fatto Quotidiano. Ci sono le ragioni del no che non stanno in piedi. Il referendum parla Zagrebeschi. La riforma è puntuale, come hanno chiesto gli elettori nel 2016. E non impedisce di farne altre. I territori, l'idea che i parlamentari debbano portare gli interessi è roba da ancien regime. Queste le parole di uno dei massimi costituzionalisti italiani. Le regionali di taglio alto. Voto disgiunto nelle regioni. Il tifo silenzioso dei Big 5 Stelle. Obiettivo la vittoria di Gianni ed Emiliano. Ci spostiamo ora sui quotidiani di area centrodestra. Il giornale che in apertura scrive votate contro gli inadeguati. L'intervista a Silvio Berlusconi. Il Cavaliere. Se il risultato sarà chiaro il governo dovrà prenderne atto sul fronte Toghe. Palamara svela lega nel mirino delle Toghe. Poi ancora il Papa che toglie Maria dalla mafia. La task force via i boss dalle celebrazioni. E poi scuola, la guerra delle minigonne. Una preside le vieta. Prof Guardoni. Covid. Una nuova impennata. Quasi 2000 casi in un giorno. Aumenta l'età dei contagiati. Andiamo su Libero. L'Europa ci minaccia. Tenetevi i migranti. Tutti li difendono. Nessuno li vuole. Nuova gestione dei clandestini. Lo Stato di primo sbarco dovrà farsene carico. Gli altri paesi dell'Unione non saranno obbligati a ospitarli. Bruxelles pronta a introdurre perfino le quote nere. A centropagina la donna che spaventa la sinistra. La leghista Ceccardi che sogna la Toscana. E poi invece così grosso e così fragile. Emiliano rischia in Puglia a scuola. Anziché il Covid combattono le minigonne. Proteste a Roma per i divieti di una professoressa. La verità. Quotidiano in diretto da Maurizio Belpietro. Il PD ha paura e si butta sul fascismo. Finalmente ci fanno votare i sondaggi su Toscana. Puglia e Marche mettono i brividi a Zingaretti. Che riesuma il polveroso armamentario contro la minaccia che non c'è. E perdere le regioni rosse. Magari anche il referendum sarebbe durissimo. Ma questi alle poltrone ci sono incollati. Scrive Belpietro. Ispettori per le minigonne. Non per i banchi e i prof. Professionisti giallorossi. Ecco le prove scartate. Per i PM c'era corruzione. Perciò chiese gli arresti. L'indagine affossate. E poi Vaticano. Sospetta truffa su altri quattro palazzi a Londra. La prima pagina del foglio. No, non è un referendum sul grillismo. Wow, il 5 Stelle scopre finalmente il voto inutile. Quello ai propri candidati, regionali e poi al referendum. Le campagne elettorali che mostrano una verità spassosa. Che regala ottimismo. Lo show del grillismo che per non far danni prova a cancellare se stesso. Il colloquio vita da crimine. I 5 Stelle si fanno i cazzetti loro. Ma io incasso bene il capo politico. Il mio mandato non è concluso. Gli stati generali non è detto che pochi vincano su molti. Andiamo sul manifesto che invece con un gioco di parole racconta così. Una delle sfide più decisive di queste elezioni regionali. Quella in Toscana. L'Arno della bilancia. La Toscana epicentro dello scontro per le regionali di domani e lunedì. I vertici del centro-destra in piazza Firenze cercano la spallata. Il futuro di Salvini nelle mani delle regioni rosse. Ma anche Zingaretti Rischi è il candidato del PD Gianni al manifesto. Non si vota sul governo. Chi a sinistra mi paragona alla leghista Ceccardi. Fa come Ponzio Pilato. A centro pagina il record di casi. Ma l'indice RT è fermo. Aumentano anche i tamponi eseguiti. Ieri quasi 100 mila. Andiamo con il gazzettino. Le notizie del nord-est. In apertura il virus sale. Ipotesi zone rosse. Quello che ci anticipava ieri nel Tg Veneto il caporedattore Arie Gervasuti. Ieri registrati in Italia 1.907 casi. Come il primo maggio. A Trento e in Liguria i dati peggiori. Se la situazione si aggrava il governo valuta di chiudere alcune aree o fissare nuovi limiti. Le regionali in Veneto tutti i candidati e le liste con Le Monde uno dei principali quotidiani francesi che dedica una pagina a Zai. Al governatore uscente che cerca la riconferma. Mini riapertura degli stadi sugli spalti fino a mille tifosi. Dal ministro via libera al tennis l'Emilia Romagna allarga alla Serie A. Per quanto riguarda invece il taglio ai vitalizi gli ex fanno causa alla regione. Andiamo all'interno delle pagine del Gazzettino per approfondire alcuni di questi temi. Proprio sulla questione contagi con i numeri che risalgono. Il governo è pronto a nuove zone rosse. Queste le indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi. Il sistema di monitoraggio ci consente di decidere chiusure tempestive. I veri numeri dei morti Covid nei dati istat di marzo-aprile. Il conto sale di 19.000 decessi. Questo il quadro rispetto alle statistiche diffuse ieri. A gennaio e febbraio le mortalità in Italia erano state inferiori ai primi due mesi del 2019. Poi l'impennata con la pandemia. Le vittime aggiuntive dovute quasi certamente al virus e in parte alle peggiori cure per le altre malattie. Vedete questi i dati. Più 27.000 i morti a marzo. Più 19.000 ad aprire rispetto all'anno precedente. Sapete dalle pagine interne del gazzettino. C'è la corsa al vaccino ma le dosi sono introvabili. Il vaccino è quello sull'influenza. I medici di base con il boom di prenotazioni e le fiale che arriveranno solo a fine ottobre. I farmacisti chiedono di acquistarli all'estero. mancano soprattutto per studenti e lavoratori. Andiamo a vedere il punto sulle elezioni regionali. La mappa dove si vota. C'è il Veneto con l'uscente Luca Zaia, il principale sfidante per il centro-sinistra è Lorenzoni. In Liguria l'uscente Etotti di Forza Italia a sfidarlo Sansa. In Toscana l'uscente Enrico Rossi del centro-sinistra. I candidati sono Ceccardi e Gianni. Nelle Marche l'uscente Luca Ceriscioli a sfidarsi e ci saranno Acquaroli per il centro-destra e Mangialardi per il centro-sinistra. In Puglia l'uscente Michele Emiliano a sfidarlo per il centro-destra Fitto. In Campania l'uscente Vincenzo De Luca a sfidarlo Caldoro per il centro-destra. Per quanto riguarda le regionali del Veneto invece questo è il quadro con Luca Zaia sostenuto da Lega, dalla sua lista personale e da un'altra civica, da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Arturo Lorenzoni per il centro-sinistra, il PD, i Verdi e le altre civiche di area centro-sinistra. Gli altri sfidanti sono anche Enrico Cappelletti per il Movimento 5 Stelle, Daniela Sbrollini di Italia Viva, Paolo Benveniù di Solidarietà Ambiente e Lavoro, Patrizia Bartelle di Veneto Ecologia e Solidarietà, Simonetta Rubinato di Veneto per le Autonomie, Paolo Girotto del Movimento 3V e Antonio Guadagnini del Partito dei Veneti. Per quanto riguarda l'edizione del Friuli del Gazzettino spicca la seconda maglia dell'Udinese a centro-pagina, quella che vi abbiamo proposto ieri durante i nostri notiziari, la maglia Away dedicata ai Fogolars Furlans, la vedete con questa striscia centrale che è composta dai tutti i nomi dei oltre 140 Fogolars Furlans sparsi nel mondo, un omaggio che l'Udinese ha voluto fare ai propri tifosi all'estero, friulani di origine. Tra poco ci torneremo nella pagina sportiva. In apertura invece c'è il voto locale perché le amministrative interessano anche il Friuli Venezia Giulia. Sfida in quattro comuni, domani lunedì le 1 si aprono non solo per il referendum ma anche per quattro amministrazioni in provincia di Udine. La principale contesa è quella di Cividale, a Premariacco c'è l'incognita del quorum visto che si è presentato un solo candidato. Ospedali Covid, la regione rivendica la regia, poi i migranti, gli arrivi dai Balcani non si fermano, la solidarietà con il polo della Caritas per i poveri, l'idroelettrico ancora una nuova legge entro ottobre. Andiamo all'interno delle pagine del Gazzettino per approfondire alcuni di questi temi. A proposito di nuove leggi c'è quella per regolare l'energia ricavata dai fiumi, da approvare in consiglio regionale entro ottobre, definire anche il futuro delle cinque centrali gestite da Edison in regione. Gli operatori turistici a Bini, l'estate migliore delle attese, le perdite sono state limitate a Lignano, registrato un settembre da record. La Lega alla conquista di Civilele della Friuli, Bernardi punta a succedere a Balloc, sfidata dalla giovane Manzini di 24 anni, a prima riacolo, dopo l'arresto del sindaco, un solo candidato che cerca il 50% dei voti. Pure la giunta regionale è divisa sul taglio dei parlamentari, Federica Riccardi contro la norma che penalizza la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia invece orientata per il sì. Nella pagina del Gazzettino vi ricordiamo la diretta di questo pomeriggio, la sfida contro la spalla alle ore 15 dal comunale di Premariacco, la diretta dalle 14.30 e poi collegamente le interviste nel post partita. Ospedale anti-covid, Roma in ritardo, Federica Sbotta ha sbagliato a fidare il piano alle singole aziende sanitarie, la regia deve essere regionale, noi abbiamo il progetto approvato da mesi, stiamo perdendo del tempo prezioso, serve una svolta. Andiamo a Pordenone Legge con il giallo italiano, genere testimone della realtà, nel confronto tra Crovia e Voledo, una disamina dell'evoluzione dei romanzi dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi, una chiave per raccontare la società. Continua il Festival del Libro e poi ieri tra i protagonisti, l'abbiamo ascoltato anche ai nostri microfoni, Beppe Severgnini, i neoitaliani sono solidi e bizzarri, il coronavirus ha dimostrato l'importanza degli esperti, qui le piccole città producono rumori interessanti. Oggi continuerà naturalmente con tanti ospiti, altri big. Andiamo sulle pagine del piccolo di Trieste, ora l'apertura. Tragica fine estate, in poche ore due morti sulle spiagge triestine, questa è l'apertura del quotidiano che ieri appunto ha visto Trieste al centro della cronaca nera con Coccani e popolare fornatore dei Gattel che sbaglia sentiero nella costa dei Barbari e precipita nel Burrone, un malore fatale in mare per un felelissimo delle pedocine e a Riviera grave una turista austriaca. Contagi, guardia più alta, esperti riuniti ogni giorno e poi ancora per quanto riguarda autostrade c'è il punto sul bilancio di Autovie Venete. L'edizione di Gorizia del piccolo con il punto sulla città isontina, clochard, baracche, spazzatura ed erbacce, casa rossa insorge, qui c'è solo degrado, ancora proteste dei residenti e degli esercenti presentati esposti ai vigili urbani, ma sembra tutto inutile, una manutenzione che rimane al palo. Andiamo sulle pagine del Messaggero Veneto, invece l'apertura del quotidiano di Udine. Si parla del nuovo protocollo dedicato alla riapertura delle palestre, le nuove regole per atleti e società, varato dalla Regione, il protocollo per gli istituti scolastici, arriva anche il via libera al pubblico negli stadi con limite di mille spettatori, questo a livello nazionale per alcune regioni. Per quanto riguarda invece l'economia, la sede e il museo, l'omaggio di Calligaris alla sua terra. L'apertura del Messaggero di Pordenone, eccoci qua. Si parla dell'avanzata del virus nella destra tagliamento, 5 ospiti contagiati a casa Serena, terzo operaio infetto all'Electrolux, 8 anziani con la febbre in simultanea nella struttura assistenziale, hanno fatto scattare l'allarme, le prime ipotesi sulle origini. Medici a casa per prendersi cura di chi non necessita di ricovero, ci sono le unità speciali dell'azienda sanitaria sul territorio. Ed ora apriamo le pagine sportive dei quotidiani, dicevamo si parte con la nuova stagione della Serie A, terminato da poco il campionato causa Covid prolungato al mese di agosto. Tutte le squadre sono pronte ai blocchi di partenza e la Gazzetta le racconta così con i volti dei bambini, ognuno con la maglia delle varie società che animeranno questa nuova stagione. Serie A, ti amo, felici ma distanziati, via con Fiorentina a Torino, poi Verona a Roma, 5 eroi mondiali svelano che stagione sarà con qualche sorpresona. Rizzoli, capo degli arbitri, falli di mano, meno rigori leggeri. Andiamo con l'apertura del tutto sport, Vicolo, Dzeko, il gioco di parole rispetto alle ultime trame di mercato. Il Bosniaco è a Verona con la Roma, ma oggi vorrebbe evitare di giocare per essere a Torino già domani. Milik permettendo, tutto è pronto per le visite mediche con la Juve, eppure Fonseca annuncia che Edin potrebbe scendere in campo. Tutto mercato, Godin, Cagliari, sì, Inter, ecco Vidal, De Papaccheta a fare Mila, Lammers, Dea, colpo Champions. Serie di taglio alto, il Torino sulla cresta a Firenze, comincia il campionato alle ore 18, Belotti, sfida Chiesa e Ribery, Giampaolo, niente alibi. Corriere dello Sport, brivido calcio, la ripartenza da Firenze alle ore 18, tra incertezze e speranze Le Laurenti scongela Milik, Fonseca a Verona con Dzeko. L'Emilia che riapre gli stadi da spadafora caotico via libera, la Lega cerca una linea comune. E poi Tennis fuori Sinere Musetti, solo Berrettini ai quarti. Andiamo all'interno della Gazzetta dello Sport per approfondire dunque i temi di questa ripartenza della Serie A. Per quanto riguarda il focus sulle singole squadre ai blocchi di partenza andiamo sull'Udinese con il portacolori e la maglia della Macron che è riferita, stilizzata a quella che aveva Zico. L'omaggio a Zico, i colori bianconeri sono accostati in diagonale per ricordare la stagione 84-85. Il girocollo al bordino bianco, i profili delle maniche sono invertiti, uno bianco e uno nero. E a proposito di maglie, anche la Gazzetta va nel dettaglio della nuova divisa away che appunto è stata presentata ieri tra un fondo a firma di Francesco Veluzzi sul punto mercato dei bianconeri. Sirene turche per Ocaca, De Paul oggi torna in campo, la punta piace al Fenerbahce, Trostecong saluta. Questi gli spunti che scrive Veluzzi sul suo pezzo. L'Udinese potrebbe privarsi dell'attaccante di Ocaca, inteso di 31 anni, ma sicuramente si vuole monetizzare con 7 milioni ai polso l'affare sicure, ma con il club turchi bisogna stare attenti. Ieri nel frattempo in serata è stato ufficializzato Arslan, il nuovo centrocampista. Per quanto riguarda De Paul oggi sarà a primariac con i compagni, potrebbe presentare la squadra, la maglia speciale che la società ha spedito ai 140 Fogolars Furlans in tutto il mondo, una lettera in friulano di Giampaolo Pozzo. Giocherà Rodrigo De Paul, convocato tra l'altro con il portiere Musso da Scaloni in Nazionale Argentina, sarà la sua prima apparizione nella nuova stagione. Sul fronte arrivi e partenze, il nigeriano William Trostecong domani dovrebbe salutare i compagni per quanto riguarda poi i possibili rientri, quello di Felipe Viseu che appunto è sotto contratto con i bianconeri e ritorna dal Grosni. Per quanto riguarda poi la Serie A, andiamo a vedere quali saranno le prime gare per questa giornata. Si parte dunque con Fiorentina Torino in campo alle ore 18 al Franchi, Riberì senza età, la sua classe per lanciare i giovani viola. E poi ancora con la sfida della Roma a Verona, Fonseca ha tentato di schierarlo nella prima Roma a Verona, la Juventus è irritata e lo vuole entro lunedì. Andiamo avanti con le pagine sportive del Gazzettino ora per concentrarci sull'amichevole di questo pomeriggio dei bianconeri. Prove generali contro la SPAL a Premariacco, l'amichevole contro i ferraresi appena retrocessi in Serie B. Ci saranno anche Depol e Lasagna, debutto di Molina, altri esuberi in partenza. Questo è il punto di Guido Gomirato. Per quanto riguarda proprio Depol, l'aggiornamento ci parla di una possibile partenza a titolo definitivo solamente a fronte di una contropartita economica valutata dai 35-40 milioni. Una cifra che al momento sembra eccessiva per gli estimatori dell'argentino. Per quanto riguarda Stefano Caca, non è per nulla condizionato dalle voci di mercato che lo volebbero in partenza verso il Fenerbahce. I giovani, questa volta ci sarà meno spazio per quanto riguarda per esempio in primavera, come ovvio che sia, crescendo di ritmo verso la ripartenza. Ci potrebbe essere Palumbo, potrebbe trovare lui spazio e forse anche Cristo Gonzales. Fischio d'inizio dunque alle ore 15, diretta su Dinese TV dalle 14.30. La nuova seconda maglia dedicata ai valori della patria del Friul, questo è il senso dell'iniziativa della società bianconera per la maglia da trasferta presentata ieri e tra l'altro già omaggiata dal Fogolar Furlan di Shanghai con questa immagine che ha spopolato sui social. Dalla gazzettina andiamo a leggere anche il fondo del nostro direttore Michele Criscitiello che dice che il club ha sempre una struttura solida, adesso toccherà il giudizio del campo, anche nel caso della valorizzazione e cessione di barack sono state fatte le scelte migliori. Sempre dalle pagine del Gazzettino, suo caca e il Fener, una storia difficile, ci sono tante ipotesi sull'attacco ma l'ex Watford e Lasagna restano due pilastri anche per il futuro. Partirà Teodorcik, Pussetto rimane un nome caldo, il saluto di Barack, auguro il meglio a tutti. Aspettando il pubblico il ministro Spadafora apre la strada ai tifosi, vedremo dunque come sarà anche l'evolversi della situazione. Pordenone, Tesser, crescere in fretta al bilancio del tecnico Neroverde dopo le prime amichevoli, in generale abbiamo fatto benino ma serve determinazione. Sabato prossimo l'esordio a Lecce, prolungato fino al 2020 il contratto di Fiorin, lo visa, noi crediamo molto nel settore giovanile. Oggi torna in campo anche il calcio di lettanti con la Coppa Italia di eccellenza, il Tamai che cerca la rivalsa nel secondo derby, le furie rosse in casa del fiume Bannia, il Fontana Freda torna al Tognon contro il Codroipo. Chiudiamo con il basket perché continua la preparazione dell'Apple Wild West in quella di Gemona e per noi c'era Alessandro Surza che ha raccolto un paio di voci rispetto all'andamento di questa preparazione a partire da coach Bonnicioli. Ascoltiamolo. Io direi che il ritiro conclude un primo periodo di tre settimane di lavoro che storicamente sono le più complicate per i giocatori, di solito si scavalla dalla terza settimana e poi per loro diventa molto più semplice. Devo dire che abbiamo fatto un lavoro di grande qualità, sia fisico con Gigi Sepulcri, sia tecnico. Abbiamo cercato di impostare le basi di una stagione che si deve vedere arrivare pronti a maggio e quindi abbiamo cominciato proprio dalle cose più elementari. I giocatori ci hanno dato una grande risposta che mi ha addirittura sorpreso per quello che riguarda la sopportazione di un carico fisico veramente importante e la combinazione di sopportazione e concentrazione allo stesso tempo. Per cui sono state indicazioni a questo momento molto positive. Ecco, adesso finisce questo ritiro, poi a metà ottobre, l'11 precisamente, comincerà la Supercoppa. È una formula questa che le piace o ancora non la convince del tutto? Quella della Supercoppa? Ma sinceramente mi interessa giusto. In che senso? La scelta dell'NP è stata quella di organizzare una sorta di precampionato che invece che essere articolato per tornei, come si fa di solito, dà un primo titolo stagionale. Quando si gioca per un obiettivo, per quanto sia secondario, è sempre un obiettivo. Ma ribadisco, noi abbiamo un'idea molto chiara in testa, che è quella di essere pronti quando conterà. E rispetto a questa idea qui, a questa scelta proprio strategica, viviamo una tappa come quella della Supercoppa, assolutamente come una tappa di passaggio. Ecco, poi c'è molta curiosità anche per gli americani. Come stanno e come si stanno integrando? Stanno molto bene e si sono integrati bene grazie anche a un gruppo di italiani molto collaborativo. Sono due giocatori di grande intelligenza personale, oltre che cestistica. L'esempio è stato Fullland, che è arrivato pochi giorni fa e dal giorno successivo sembrava che fosse con questo gruppo da tre anni, perché parla, discute, interagisce, commenta, condivide, suggerisce ai più giovani. Quindi siamo stati fortunati. È chiaro che avevamo fatto assieme ad Alberto Martellossi un approfondito lavoro di scouting non solo tecnico ma anche personale. Però oggi, in una situazione comunque di pressione fisica e mentale importante, tutta la squadra ha reagito molto bene e gli americani fra i migliori, senza ombre di dubbio. Prima di salutarci, un ultimo aggiornamento di Cronaca, arrivato poco fa in redazione, perché ci sono stati due nuovi assalti a Bancomat in Friuli, nella notte, il primo a San Daniele del Friuli, attorno alle 3, e poi successivamente a Romance di Sonzo, attorno alle 4.30. Probabilmente si tratta della stessa banda sul posto, le forze dell'ordine, la vigilanza privata per i rilievi, i primi accertamenti e naturalmente nelle prossime edizioni vi forniremo ulteriori dettagli. L'appuntamento con informazione ritorna alle 10, grazie per averci seguito e buon sabato a tutti.